Il Beltrade riapre oggi, abbiamo deciso fin dall'inizio che appena fosse stato possibile noi avremmo riaperto senza fare troppi calcoli economici perché volevamo dare una risposta al nostro pubblico che ce lo chiedeva e avevamo voglia anche noi di ricominciare a lavorare. Rispetto a prima ovviamente ci sono delle nuove regole da seguire per la tutela della salute degli spettatori e delle spettatrici, anzitutto il distanziamento in sala. Quindi ci saranno meno poltrone del solito, circa una sì e due no in modo da avere il metro sia di lato che davanti. I gruppi familiari potranno mettersi insieme, sarà loro cura insomma dichiararci che si tratta di conviventi e gruppi familiari. È bello, è una ripresa della vita quasi normale con mascherina, guanti, febbre, tutto questo però mi sembrano misure corrette per prevenire il peggio. Non troppo, è più la voglia di vedere un film, un bel film, non sul divano. Anche se loro comunque con il loro Beltrade sul sofà ci hanno fatto compagnia nel lockdown. Perché è un'esperienza diversa, si entra proprio in contatto col mondo del cinema e con il film e si vede il lavoro che c'è dietro ed è più anche un'esperienza di condivisione anche se adesso comunque con queste nuove disposizioni sarà un po' più difficile. Quando siete sedute, per bene, potete sdogliarlo. Ho un filo e già lì. O il ragno.